ciao a tutti benvenuti in un nuovo video io sono Emanuela e questo è facile e veloce opinioni oggi faccio un video che in verità avrei dovuto fare ieri e vi chiedo scusa ma ero veramente stanca in ogni caso il mio pensiero comunque non si è allontanato dalla tematica che voleva affrontare nel video perché ieri è stata una giornata importante a livello storico una data da ricordare perché il 27 gennaio l'armata rossa ha liberato il lager di Auschwitz ponendo fine al genocidio di milioni di ebrei e mi sembrava giusto ricordare il passato per non dimenticare e soprattutto mantenere salvi i valori per un futuro migliore e quindi oggi mi sono sentita di dedicare questo breve pensiero proprio perché per tenere vivo il ricordo di una data così importante bene il video termina qui con coscienza e le mie solite raccomandazioni portate pazienza un po di prudenza e non dimenticate di starmi bene